Incantevole, nudo di ragazza, olio su tela, dell'autore in arte Oberon, misura 50 cm per cento, con cornici in vegno lavorato antichizzato. Possiamo notare in quest'opera la perfezione con cui sono state raffigurate le mani e i piedi del soggetto, che sono sicuramente le parti più difficili in un ritratto, e la magistrale trasparenza del velo, creata con un tocco veramente raffinato, che crea un grande equilibrio tra realismo e stile pittorico. L'opera viene venduta a un prezzo di quota di 1800 euro e può essere giudicata al prezzo eccezionale di 850.